Salve a tutti, in questo video faremo il video dei prodotti terminati dei trucchi quindi quando vedrete questa scatolina significa che saranno i video dei trucchi terminati allora iniziamo subito allora la prima cosa che vi faccio vedere è appunto allora questa volta prima di tutto vi faccio una promessa ho finito più cose delle altre volte di solito le altre volte mi riescono due cose invece questa volta ne ho finite ben 5-6 adesso non ricordo perfettamente ma comunque ne ho finite più delle altre volte adesso vi mostro allora prima di tutto vi voglio parlare di questa base del livre Rocher questo qua è un primer base da 25 ml davvero bello allora questo qui lo devo mettere sopra il fondotinta appunto come base molto molto luminoso e questo qua già dava un colore al volto bello perché essendo molto luminoso più che base sembrava un illuminante adesso se ne esce un po' vi faccio vedere vi faccio uno sguoccio più o meno allora non so se si vede molto perché appunto è terminato però è stato davvero ottimo 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 mi è piaciuto tantissimo e adesso voglio provarlo quello là dell'Avon è la base dell'Avon ma questo qua lo ricomprerei anche se la tonalità è unica questa qua di livre Rocher è unica e costa un po' di più di quello dell'Avon però mi ci sono davvero trovata bene ve lo consiglio di provarlo questo qui dura parecchio perché mi è durato due mesi più o meno sì mi sono durato perché comunque non c'è bisogno di metterne tantissimo perché basta un po' giusto per la base appunto e illumina davvero tantissimo quindi ve lo consiglio poi andando avanti ho terminato una matita turchese sempre del libro Rocher questa qui questa volta che purtroppo la punta è caduta proprio era una matita bellissima molto scrivente mi è piaciuta un sacco e questa qua la ricomprerei perché scrive è molto morbida non è una matita che dà fastidio quando la si metteva negli occhi che magari no no è davvero ottima scrive e quindi mi ci sono davvero trovata bene mi è durata anche questa qui parecchio perché io l'ho acquistata tra febbraio e gennaio gennaio e febbraio fino adesso quindi vedete vabbè non l'ho messa tutti i giorni però più o meno potete capire quando è durata perché siamo a luglio l'ho acquistata a gennaio quindi è durata un bel po' è durata un bel po' non l'ho messa tutti i giorni più che altro la mettevo abbinata al trucco magari quando dovevo truccarmi col celeste così questi colori un po' così che si abbinava anche la matita davvero davvero ottimo poi andiamo avanti e ho terminato un mascara dell'Avon perché ho finito anche qualcosa dell'Avon allora questo qui è il mascara della Super Shock nella colorazione black 10 ml vi faccio vedere lo scovolino appunto lo scovolino e questo cicciotto qui adesso ne sto usando un'altra mascara della Lidl mi trovo davvero bene sempre con lo scovolino il coso nero davvero davvero bene mi sto trovando con quello là questo qui è stato ottimo ho messo un sacco di questo mascara perché comunque faceva delle ciglie davvero finte più si metteva questo mascara e più sembravano ciglie finte molto molto bello lo ricomprerei sì non costa manco tanto me ne posso parlare solo bene perché mi è piaciuto tanto 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 e quindi è provato anche perché questo mascara ne ho sentito a parlare diverse volte ne ho sentito a parlare sempre sempre bene per questo l'ho acquistata tutto visto che ne parlano tutti quindi è bene l'avamo proprio ordinato una cliente in un vecchio video che vi ho registrato sull'altro canale ho detto adesso io lo voglio provare anche io perché così vediamo perché lei mi ha detto che si era trovata davvero bene e quindi l'ho acquistata e mi ho trovata bene anche io poi cosa ho terminato allora ho finito quel rossetto che vi ho fatto vedere nel video scorso nel video vecchio in pratica quello là dove avevo parlato del rossetto che avevo finito che usavo questo qui allora ho finito anche questa qui è una matita come ben sapete l'ho finita qua non si temperava più e quindi la butto e allora come rossetto questa matita mi è durata parecchio 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 anche questa questa qui è appunto la 03 e è stata una matita davvero ottima sembrava quasi rossetto infatti molte persone mi dicevano ma che rossetto è e mi dicevano veramente una matita la consiglierei anche questa perché è davvero ottima è un colore bello rosso proprio rosso diciamo fuoco e davvero ottimo è piaciuta molto scrivente anche la matita perché di solito non mi trovo con le matite ma con questa qui non ci sono trovata perché scriveva bene non ho limitato a dirli in pratica questi prodottini e poi in solito mi sono trovata bene tutti i punti top che erano e poi è terminato questa cipria che mi è stata regalata l'anno scorso al compleanno questa qui era una cipria che in pratica perfezionava il trucco lo faceva durare di più perfezionando il trucco e questa qui era 9 grammi come potete leggere doveva cioè durare 24 mesi ma io l'ho terminata prima nemmeno un anno si può dire e mi sono davvero davvero trovata bene andavo a sfumare con pennellino una volta sfumata non si vedeva nemmeno cioè molte persone hanno detto se ne metti tanta si vede che comunque è bianca io ne mettevo tanta e non è vero che comunque mi rimaneva sulla faccia un po' bianco cioè no anzi è davvero ottimo e questa qui mi faceva durare il trucco abbastanza il fondotinta tutto mi faceva durare davvero tanto e adesso come cipria sto usando una cipria di una trusso che mi sta regalata da mia cugina però questa qui più in là la vorrei ricomprare allora i trucchi che ho finito sono questi qua sono due due dell'avon due del libro e uno di un'altra marca dell'astra davvero top tutti quanti il mascara è quello che mi è piaciuto tantissimo e questo mi è piaciuto pure parecchio ma comunque non ho preferenze perché più o meno mi sono piaciuti tutti quanti uguali quindi forse questa qui ragazzi non è che non ho preferenze perché ne ho parlato bene e ne parlo bene però l'unica cosa è che non ne cadeva mai abbastanza nel senso che questa qui quando la dovevamo mettere la dovevamo mettere cioè la dovevamo mettere girandola così e quindi non ne cadeva mai sai quindi ciò per dire un po' di tempo e in più quando me l'hanno regalata al compleanno perché questo regalo io me l'ho scelto io in pratica erano questo luci della labbra due smalti c'erano qualche cosette un zetto diciamo e la trucco questo è quello non riuscivo a capire come si apriva come funzionava e poi ho detto ma come si usa e poi ho visto che c'erano questi buchini e da fuori questi buchini qui qui risceva il prodotto comunque davvero ottimi mi sono piaciuti i prezzi non sono manco molto alti l'unica cosa che è stata un pochino più alta è stata la base Eau Rocher quella là però adesso non ricordo il prezzo perfetto e e le ricomprerei tutti quanti infatti allora al settimana non ne compro però se dovrei ricomprare un mascara nemmeno perché ne ho una che già lo sto usando ma se dovessi ricomprare la base o la cipria le ricomprerei cioè più in là forse le ricomprerò tutti quanti questi prodotti perché sono stati prodotti allora vi monto la seconda parte con il beauty spero che questo video vi sia piaciuto se si mettete un like un pollice attivate la campanellina iscrivetevi in tanti e in più ditemi quello che vi piacerebbe provare o quello che avete già provato così ne parliamo insieme e vediamo un po' come vi siete trovati con questi prodotti come vi sono trovata io come vi sono trovata io e già ve l'ho detto quindi abbastanza bene ditemi in pace come vi siete trovate oppure cosa vorreste provare un bacione con la seconda parte ci vediamo tra poco con la seconda parte dei beauty di